Mentre interpretano i loro ruoli, nel triangolo il mistero, attraverso Mario del Giglio, domanda In che modo possiamo cambiare il karma degli altri? Risposta Non abbiamo mai detto che possiamo annullare l'esperienza di un altro fratello, se non eliminando noi la nostra. Se, invece di stare a osservare gli altri mentre interpretano i loro ruoli, criticandoli quando li recitano male, ci impegnassimo noi stessi a recitare sempre meglio la nostra parte, gli altri cercherebbero di emularci perché vorrebbero anch'essi migliorare. Ecco in questo caso noi, a nostra insaputa, avremmo aiutato gli altri ad accettare la loro parte, anche se era insignificante e peggiore della nostra. Grazie Grazie Grazie